Sono oltre 18.000 gli studenti attesi a questa edizione, la sedicesima di Unisa Orienta, provenienti dagli istituti superiori del Sud Italia, fino al prossimo 14 febbraio avranno l'occasione di confrontarsi con le opportunità formative offerte dall'Aterio Salernitano per meglio scegliere il proprio percorso. A raccontare la sua esperienza Benedetta Pilato, la quindicenne campionessa di nuoto che frequenta il secondo anno di liceo e a dispetto della giovanissima età ha le idee ben chiare. Nello studio, come nello sport, nella vita in generale, c'è un solo modo per avere successo. A questo, aggiunge il rettore Loia, si deve aggiungere un altro importante elemento, la scelta, la capacità di saper individuare il proprio percorso di vita. Sono 12 le sessioni di Unisa Orienta, ognuno avrà un testimone per dare ai futuri studenti un panorama quanto più ampio possibile. e anche con lo studio.